Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, grazie ai risultati del Fanta Calcio, episodio 14, l'ultimo, quindi 15 e 16, siamo su Fanta Master, andiamo sul calendario del risultato del 17esima giornata di questo e 18esima, l'ultimo, che si è concluso ieri, e poi andiamo su quell'altro, quella 8. Qui non mi indilungherò ulteriormente sempre, perché sono primo, con ampio margine, quindi avevo, va bene, avevo il rigore sbagliato di Lautaro, la doppietta, 9 e mezzo poi, poi doppietta di assist, doppietta di assist di Barella e gol e assist di Cialanoglu, e basta, porta con Andanovic col bonus di 5, anche per Scarsenal, Rul Patricio, gol di Aramu e basta. Potevo mettere anche Caputo al posto di Muriel, però, vabbè, andarlo a sapere che Caputo avrebbe segnato quella giornata scorsa, che Caputo segna anche poco, non come quando era il sassuolo. Vabbè, accontentiamoci di questo e accontentiamoci anche di un 82 e mezzo contro un 67 e mezzo e un 3-1 pulito. Andiamo nella giornata che si è conclusa ieri. Andanovic, sempre 11 e mezzo, Magnane subisce il gol al quinto minuto con il Napoli, Quadrado, gol, e basta. Doppietta di assist di Cialanoglu e gol di Lautaro, meno male che non ho messo un musso, se no mi avrebbe preso due, e assist di Caputo in fondo, in panchina, che in queste due giornate qui ha fatto solo qualcosa di interessante, e Barrache che l'avevo prima messo in campo quando ho schierato la formazione. non mi ha giocato, mi dava titolare, ho dovuto fare la sostituzione con Benasser, che ha preso 6. Il risultato è 78 e mezzo contro il 65 e mezzo, 0-3 per me. L'avrei vinta comunque anche se avessi messo Musso, al posto di Andanovic, ma va bene così, però gli toglievi un 5 punti, quindi 73 e mezzo, e già erano due i gol di vantaggio, poi toglievi anche, mi sa, 4 punti, e ti prendeva 2, quindi, vabbè, facciamo una cosa, togli, togliamo un 11 e mezzo, quindi era un 66 più o meno, più 2, un 69, all'incirca, adesso ho fatto i calcoli un po' così, o un 68, vabbè, comunque, avrei vinta comunque anche questa giornata, nonostante il gol di Martinez, di Lautaro e doppietta di Cerenogu in assist, va bene, andiamo in quella 8, non ho messo in pausa e si è visto il risultato, vabbè, comunque, posso dire che anche con un 0-1 per me, ho sempre tenuto il controllo della situazione, e tutto grazie ai due assist di Barella, l'assil di Cerenogu, poi il successivo gol, e basta, mentre lui ha giocato in 10 o 9, vediamo se gli è entrato qualcuno dalla panchina, magari dopo, allora, veritù che si ritorna un po' il veritù dell'inizio campionato, fa assist, e gol di Buonaventura, della Fiorentina, gol subiti 1, entrambi le parti, quindi 5, entrambi, e io la vinco con questi due giocatori dell'Inter, che mi hanno fatto brecchi bonus, allora, lui, a lui non gli entra, solo in attacco non gli entra, solo l'attacco, due giocatori non gli entrano dell'attacco, gli entra solo Bonazzoli, che gli prende 5,5, e quel 5,5 lì, fa sì che lui arrivi a 63, ma comunque, nessun gol, perché si arriva a 66 a fare il primo gol, e io per mezzo punto, non sbloccavo anche il secondo, un 71,5 onestissimo, a mio parere, vinco, questa è la terza consecutiva che vinco, e adesso vediamo, quella di, che si è appena conclusa, la di, ciottesima giornata, sedicesima della Lega, allora, Scarsenal e Acciughina, Scarsenal per tutta la partita, tutta la giornata, in poche parole, stava tenendo, un gran bel margine, su Acciughina, che, ha tutta la squadra Acciughina del Napoli, si può chiamare anche il Napoli, perché, ha 7 giocatori su, su 11, che sono tutti del Napoli, quindi, chiamiamolo il Napoli, il Napoli, praticamente, stava, in svantaggio, perché, con tutti gli infortuni, che ha avuto, in queste ultime partite, infatti ha perso il primo posto, proprio per questo, è riuscito a vincerla comunque, poi, pareggio di, over 1 e mezzo, e AS Tronzo, mi serviva più una vittoria, di AS Tronzo a punto, così, io agganciavo, il primo posto, il secondo, quello lì, il secondo, potevo anche passarlo, perché, era arrivato un punto, dopo, la giornata scorsa, quindi, sì, e 3 moni, che perde con Alpacas, va bene questo, va bene, perché così, non mi sorpassa, non rimane vicino, anzi, si distacca un pochettino, infatti, la prossima ce l'ho, contro di lui, proprio domani, devo schierare la formazione, oggi, stasera, sono proprio contro di lui, quindi, è un bello scontro diretto, per non perdere il terzo posto, va bene dai, adesso, Anile FC, AC, Azzoduro, eccoci qui per, la sedicesima di Lega, proprio con AC, Azzoduro, e, va detto una cosa, che da quando ho incontrato lui, l'altra volta, che mi aveva fatto gol, De Silvestre, avevamo pareggiato, il secondo turno, appunto, io, non ho mai, da lì, ho avuto difficoltà, con i miei giocatori, cioè nel senso, niente più bonus, niente più, assist, o gol, ed è arrivato il mio punto, in crisi, bene, allora, partiamo con, doppietta di assist, di Cialanoglu, con il giallo poi, barella, 5 e mezzo, dopo, dopo una, dopo due, belli assist, nella giornata scorsa, ritorna a fare, schifo, come, un po', prima della giornata scorsa, e, Aynan, giallo, aynan, Teo non mi gioca, e mi dava a titolare, poi dopo, all'ultimo, ha detto, no, Teo non deve giocare, e quindi, sono rimasto con un uomo in meno, per il momento, poi dopo ci arriviamo, Benasser, senza voto sale, mentre nel Fantamaster, come avete, visto, pochi minuti fa, Benasser ha preso il voto, ha preso 6, Barak, sempre la stessa storia, non mi ha giocato, mi dava a titolare, non mi ha giocato, e vabbè, avevo aperto Benasser, volevo Barak, vabbè, sei infortunato, sì, la sedicesima giornata, la quattordicesima della Lega, solo per quella giornata lì, era infortunato, ha fatto due partite, che è stato inutilizzato, e vabbè, si sta vedendo anche Zainola, che ha fatto gol, vabbè, comunque, già sì, Ilicic e Barraov, niente, l'attacco che non segna, poi arriva l'assessi di Bernardeschi, e doppietta di Ebram, Abram, Abramo, Abramo, come ne volete, allora, 3 gol, e il risultato, ve lo faccio vedere adesso, no, aspetta, e, lui, ha fatto solo questo, cioè, nel senso, gol, assist, e doppietta, basta, io, due assist, e tre cartellini gialli, e, sei, cinque e mezzo, cinque, vabbè, quello che è, comunque, mi sale bastoni, e va bene, mi sale Felipe Anderson, sette e mezzo, assist, e va bene, Froehler, cinque e mezzo, e il risultato è, sessantotto e mezzo, un gol, quindi, e ottanta, dopo tre partite consecutivi, che le vincevo, arriva la mazzata, il 3-1, la classifica, meno male, che over 1,5 pareggiato, e che acciughina, vabbè, ha vinto, quindi mi va, a più quattro punti, eravamo a più uno, era a più uno lui, nella giornata scorsa, tre moni, rimane fermo a venticinque, e, e poi c'è, dopo tre moni, c'è uno spacco di, eh, otto punti, chiedi della seconda, metà del, del gruppo, del fantacalcio, a otto, e, con questo, Scarsenal, dopo aver vinto, la giornata scorsa, ritorna ottavo, e, a certo duro, guadagna una posizione, quindi, lì dietro, sono tutti, sono tutti vicini, cioè, per Scarsenal, potrebbe, arrivare quinto, e farcela, come potrebbe rimanere ottavo, e, e basta, però, questi qui dietro, mi servono per, bloccare, quelli che ho davanti, e anche dietro, a pochi punti, mi possono fare, un grande aiuto, come il formula 1, secondo pilota, nella battaglia, per il titolo, tra due, top team, premi piloti, ecco, vabbè, comunque, calcio, e formula 1, lasciamoli a parte, va bene, il video, finisce qui, noi ci vediamo, ad un prossimo video, che, sarà su, ritorneranno, i gameplay, quindi, il prossimo video, oltre al fantacalcio, il video prossimo, è, i gameplay, per, tutti i giorni, lo dico, tutti i giorni, ogni gameplay diverso, ogni giorno, un gameplay diverso, tutti i giorni, fino al 6, poi, dal 6 in poi, vediamo, la situazione, ecco, vi faccio vedere, gli ultimi 5 incontri, la dodicesima, l'ho persa, la prima, la prima che vinco, dopo due che ne perdo, le consecutive, la undicesima l'ho persa, c'è un 13, 14, 15, vittorie, e la sedicesima, sconfitta, speriamo che la diciassettesima, della Lega, sarà una vittoria, vabbè, vediamo, nel prossimo video, iscrivetevi, commentate, condividete, attivate la campanellina, se altre cose, ci vediamo,